Sabato 17 settembre, San Roberto Bellarmino, è il 260esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 105 al termine. Il sole sorge le 6.51, tramonta le 19.18, la luna si leva le 23.04, tramonta le 14.41. Taglio del Po a Porto Viro. Oggi, alle ore 19, scrive il preveditore sopra il taglio, con il favor del Signore Iddio sia dato l'acqua al nuovo taglio. Con la diversione delle acque del Po verso sud, la Repubblica Veneta intese porre un freno alle rotte del fiume e alle conseguenti disastrose inondazioni, nonché alleviare notevolmente i pericolosi interamenti della laguna. Le previsioni per domani? Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili verso sera e soprattutto in montagna. Precipitazioni assenti, temperature, valori minimi in lieve ulteriore calo e massime in ripresa.